Buaaaahhhh Amici di Youtube siamo qui con un nuovo video, questa volta siamo io, Wallet5410 e il mio amico simonzo98 Bellaaaaaa Ok, allora lui è questo e ci aiuterà a far un nuovo commentary e un nuovo programma, che è Angela ci può piegare in mano per un primo momento Si chiama Amnesia. Ma senza storie, iniziamo subito Vai! mi ha messo l'allumino in scala su tutto e speriamo... verso l'infinito ed oltre il prezzo è un moruzzo allora... beh... allora, è la prima volta che si piacerebbe... che sta finendo con lei? ah non siamo noi qua ah non siamo noi qua ah non siamo noi qua non lo so 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 ma sono tre volte le giovani in un'unico io io sono Daniel cazzo come fai? muozi cazzo 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 andata cazzo e si inizia più che bene si inizia più che bene c'è morto il computer cazzo che è morto grazie cazzo niente niente guarda cosa sa fare il muro che sta spaventando? no, sanno 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 ok, va bene vai, allora partiamo subito se magari si alzasse boh 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 marihuana sanno 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 segui la traccia liquida e trova nel centro morto andiamo ma che cazzo no ce la dovevamo fumare è una vera no ma senti questo oscual no ma cazzo oh 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 no no ragazzi torno indietro scherzo finiremo qua perchè ci cagheremo le mani prima finestre 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 che cazzo ma perfetto ungello capito eh che cazzo oh mio dio guarda di lì speriamo si senta il suono ragazzi ma non si senta la nostra voce sicuramente ecco perchè tanto lo sentirà e dunque allora oh 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 o oh 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 ok oh ma questo leva qualsiasi cosa si appunto se tu gli dai un armario poltone no ok detto di aprire le porte ovviamente le porte ma sicuramente che cazzo cazzo si è fotte va andiamo tanto lo so che c'è la mia mano a prezzo si ma è solo qua è mille luci nell'ambiente cazzo si è un bambino che c'è ancora la tua sanità mentale che cazzo ma io sono già rincoglionito quindi abbiamo finito il gioco ragazzi allora sono camice bianche ovunque ma si che poi sto qua a a 100 armar porco uomini di oh ma non so se sentite il sonoro ma ogni tanto ci sono tipo degli orgasmi ma si va ma comunque adesso abbiamo questo momento vuoto vorrei ringraziare wallie per avermi dato la possibilità di fare questo commentare insieme a lui e quindi lo ringrazio vabbè e io ringrazio si muove molto ecco qua ecco qua dobbiamo seguire su queste braccia ma naturalmente non si brucia non si brucia si brucia ma solo come ma inizia ma inizia confusse inizia 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 la madonna de dio che cazzo è un po' da un po' se mi fanno un palco la casa vai da un po' è il mio palco oh mio dito oh mio dito oh mio dito oh mio dito andiamo allora andiamo avanti poi in tappi ci sono ormi di palumba ovunque e qua? no? tu e mo? e che dobbiamo ah qua va qua va qua no 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 te 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 ha scorreggiato? ahahah ma che piuttosto te 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 ha scorreggiato? ti ho tirato giù tre giorni ah questo è qua oh boh qua ne ha tirato la lancetta inizia sette ore ci sono volte va qua faccio qualcosa di importante ma va cosa c'è più importante di uscire? ma ti fassi appunto che io non ho corretto di uscire qua di aperti io ci fio eh certo io non prendi uscire ah dai questo è il nostro cuore oh una mano una mano e un uomo ahahah di qua di qua eccolo ecco 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 ahahahah ci siamo tirati una cosa in testa eh ma per me ci stiamo girando attivo che cazzo è? che cazzo è oh l'aquila le convulsioni che cazzo fa oh 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 no no ma ogni tanto sto gioco ha degli scatti ma sì che tu vuole e non riesci a capire se siano realmente di lag oppure oppure sia proprio il gioco vabbè qua c'è una scufa cazzo 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 oh oh mi scuola questo qua non è un cannone ahahah ahahah Ragazzi, mi ha finito il gioco, mi hanno trovato tutti i bicchieri, io che bello, ok vabbè, ora non c'è niente, oh porca, forse che poi io mi sto pregando in mano se si può la faccia, perché ci sono dei rumori, proprio, esatto, non sappiamo se è simoso o che renda, o se è simoso. Ma che cazzo stai dicendo, ma che cazzo stai dicendo? Voi che cazzo stai dicendo, mi ha finito, non sappiamo se è simoso, non so stai dicendo, non so stai dicendo, non so stai dicendo, non so stai dicendo, non so stai dicendo. Your former self, Daniel. Ecco qua. Vabbè, ho spaccato qua di merda. Beh, ma dove dobbiamo andare? Beh, utili. Cosa sono? Ma vabbè, io direi che non li tocchiamo. Qua, qua. Vai, lì, lì, ti lo scadevo. Vai, che cazzo. L'hanno sparaflesciato. Vabbè, i bambini li urlavano fuori. Vabbè, eh, ragazzi. Cazzo. Oh, ti ho detto di farci uscire, ma qua. Gli altri bambini... Cosa? Iniziano un po' Cazzo. Ma poi non so, non è spavere se è zocco. Ma sì, e poi... Ma se è proprio drogato di questo. Cazzo. Vabbè, ragazzi. Qua la sala dei piselloni? Vabbè, cazzo. Cazzo. Alexandre, è inizio il castello? In un modo di parlare, regala, bring the lamp. Vabbè. 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 Noi, versetto. Mi capito, mi sbasco di pericina Daniel. Adesso è qua differente il rifatto. In finalmente, lo farò. Ma poi mi offrono? Allora si attraversa. Oh, io ho retevole. ує durare. ma è impiechevole blasfemie vabbè ragazzi io direi che con questo assessment sul che cosa sarà terminiamo questo episodio di ammira anche perchè mi sta anche perchè mi sta calando sotto ma nel vero senso della parola non abbiamo agito i fagioli abbiamo agito i fagioli un saluto da qua qua è down ok vabbè ragazzi con questo con questa immagine terminiamo il video spero vi sia piaciuto commentate metteteci un mi piace un mi piace iscrivetevi da wall5410 e simoso è tutto alla prossima ciao